Lentini, coltivazione di canapendiana, agricoltore 47enne, è stato denunciato dai carabinieri. Sorpreso un agricoltore che per arrotondare a fine mese il proprio reddito era dedito alla coltivazione di canapendiana. Grazie alla continua proficua azione sinergica fra i reparti speciali e territoriali presenti sul territorio sracusano in questo periodo estivo nel quale notoriamente si completa la fioritura della canapendiana sono stati intensificati i controlli sul territorio per rinvenire eventuali coltivazioni abusive. Nella giornata di ieri i carabinieri dello squadrone eliportato calciatore di Sicilia e l'arma territoriale di Lentini hanno scovato in contrada fiume freddo una coltivazione di canapendiana abilmente occultata fra alberi di importanti dimensioni consistente in nove piante dell'altezza di due metri circa, messa a dimora da un agricoltore lentinese di 47 anni che per tale motivo è stato denunciato alla procura della Repubblica del tribunale di Siracusa. La piantagione dopo le operazioni di campionatura eseguite per definirne il grado di tossicità su disposizione del pubblico ministero di turno è stata estirpata e distrutta dagli stessi militari operanti. Grazie.